Eccoci qua, ciao, buongiorno, buona domenica Marco, buona domenica Nicola. Ciao, ciao Costantino, eccoci, buona domenica. Allora, tanta roba, non ci fanno mai annoiare i nostri amici, perché questa settimana c'è stata l'uscita di Casaleggio, con quello scontro di cui vi stiamo parlando da molto tempo, che è ancora latente, ma che è particolarmente evidente, e adesso Marco, che è il nostro insider, ci dirà tutto di questa uscita di Casaleggio, e poi vorrei concludere con un passaggio relativo al PD, che è una parte del PD, diciamo, quella zingarettiana, che diventa sempre più somigliante al Movimento 5 Stelle, anche nei modi, o almeno a uno dei Movimenti 5 Stelle, mi correggo. Allora, dai, Marco, illustraci questo meraviglioso manifesto. Allora, mercoledì scorso Casaleggio ha presentato in streaming per un ristretto gruppo di persone, in realtà ci si poteva scrivere e si poteva accedere senza nessun problema, ha chiamato questo manifesto Manifesto Controvento, e il nome deriva da una, lui spiega da una targa che suo padre ha messo nella sua villa a Ivrea, ha letto un pezzo del discorso che aveva pronunciato Casaleggio Figlio, un paio d'anni fa a chiusura della campagna elettorale. Insomma, il senso di questa operazione, nelle intenzioni di Casaleggio e di Sabatini, è quello di presentare, ripresentare e ribadire le famose norme, regole, principi che dovrebbero animare il Movimento 5 Stelle e la piattaforma russo, ma in realtà ovviamente è una... Io credo che Casaleggio stia apparecchiando l'incidente. Una cosa da notare in particolare, lui ha ribadito nuovamente la regola dei due mandati che impedisce di ricandidarsi per un terzo mandato, non nominando mai il Movimento 5 Stelle, questo è già un dato interessante, aggiungendo che le candidature dovrebbero essere presentate con largo anticipo per dare a tutti la possibilità di valutarle, di ragionarci, di discuterle, così come dovrebbero essere scelte e pesate sulla base delle competenze, dell'esperienza, dell'attivismo dimostrato nel corso degli anni e così via. Cosa significa questo? La mia personale opinione è che Casaleggio stia appunto, come dicevo, apparecchiando l'incidente, perché è chiaro che in un partito che tra l'altro sta al governo in una situazione delicata come questa non è possibile presentare le candidature con un anno, due anni di anticipo, ovviamente. Lo può fare, è un movimento o che sta all'opposizione o che non esiste e quindi credo che il senso è io a breve presenterò, poi vedremo se succede veramente, però io a breve chiederò di presentare le candidature e chi ci sta bene e chi non ci sta è fuori. Dove coccia questa cosa? Col fatto che Casaleggio non ha a disposizione il simbolo del Movimento 5 Stelle e sul simbolo sappiamo che ci sono anche cause civili in corso, non si sa bene ed è un tema che aveva fondato anche Grillo nel suo video una decina di giorni fa dicendo che l'avrebbe cambiato, che avrebbe messo Conte nel, il nome di Conte appunto nel marchio. Casaleggio ha ribadito anche il fatto che il governo Draghi e l'adesione al governo Draghi ha creato una spaccatura nel Movimento e che non sono state seguite del tutto le regole perché, come sappiamo, la votazione è stata prima chiamata, poi rimandata e quindi non si sono aspettate le 24 ore da regolamento alla seconda votazione. è appunto una provocazione a cui credo abbia risposto prontamente la romana del Movimento entrando nella giunta di Zingaretti in Lazio senza passare dalla piattaforma, per esempio. senza un voto sulla piattaforma Rousseau. Credo che siano entrate due persone, Roberto Lombardi e un altro assessore del Movimento 5 Stelle in giunta insieme a Zingaretti. Esatto. E questo ovviamente viola le regole che il Movimento si era dato per questo tipo di scelte. Marco, allora io quasi quasi lo faccio vedere questo manifesto, almeno i punti di questo manifesto, perché ci sono degli elementi di continuità, a mio modesto avviso, ma ci sono anche degli elementi discretamente innovativi. Adesso vediamo se riusciamo a farlo share. Allora, in particolare, io vedo due punti. Condividere lo schermo. Eccolo qua. Allora, non so, lo vedete? Sì. Allora, è confusionario. Cioè, l'ordine che è stato dato non è analitico. Cioè, si parte con il voto di battito, che è uno slogan, si finisce con nessun limite all'immaginazione, che è uno slogan. Tra l'altro, gli slogan sono la cifra comunicativa di Casaleggio del Movimento 5 Stelle da molto tempo a questa parte. Cioè, il sogno non è utopia, l'esempio è cambiamento. La felicità è partecipazione, nessun limite all'immaginazione. Mi viene da dire, con un termine molto poco politically correct, ma vaffanculo, dov'è il programma? Cioè, che cosa ci volete raccontare? Perché tutti questi slogan mi sanno molto da canzone o da poesia, ma, francamente, se bisogna far politica, bisogna far politica sui contenuti. Però, amen, pazienza. C'è un passaggio che, secondo me, e voglio sentire voi su questo, è significativo. E cioè, uno non vale l'altro, che è un pochino, come dire, l'evoluzione di uno vale uno. E vorrei sapere, secondo voi, chi è l'altro. Perché ho qualche idea, me la sono fatta. E rinnovare vuol dire evolvere. Cioè, punti 5 e 4. Rinnovare vuol dire evolvere, lo vedo molto confacente a questo momento. Sia in senso, diciamo così, polemico nei confronti dell'attuale situazione del momento 5 Stelle. Perché Di Maio ha parlato di evoluzione nelle settimane scorse di 5 Stelle, quando lui e quel gruppo ampio governista ha deciso senza se e senza ma di restare al governo. Io qui ci leggo, ma forse è una mia ingenuità, ci leggo una risposta a Di Maio che aveva parlato di evoluzione. Cioè, secondo me Casale già sta dicendo, guarda, caro Di Maio, che l'evoluzione non è quella che dici tu. E poi appunto, l'uno non vale l'altro, che è chiaramente speculare, l'uno vale uno. E mi chiedo però, che vuol dire, che cosa ha in mente? Che quelli che sono in coda per fare il prossimo mandato elettorale sono meglio, o comunque sono diversi, o comunque di quelli che hanno già esaurito i due mandati e non possono ricandidarsi? Ma allora, anzitutto, sì è vero, sono una caterva di slogan uno dietro l'altro, molti dei quali non hanno alcun significato pratico, ma c'è un motivo. Il motivo è che Casaleggio non vuole fare politica, nel senso non vuole occuparsi del programma o delle scelte politiche, di politica quotidiana, diciamo, al governo o all'opposizione. Lui si propone per fornire un modello di acquisizione, di raccolta e di gestione del consenso, il che non significa necessariamente dover intervenire sulle decisioni politiche direttamente. Questo perché? Perché ovviamente a lui interessa essere influente, non interessa prendere decisioni necessariamente. E quindi non si preoccupa di dare un profilo ideologico dal punto di vista delle scelte e della collocazione politica. Lui vuole proporre Rousseau come modello di partecipazione e di costruzione delle scelte. Questo è il motivo per cui resta molto sul vago e dà un'impressione, un messaggio molto molto alto dal punto di vista retorico, insomma, che poi ha significato un altro discorso. Però questo è il motivo. Su quei due punti specifici, allora, uno non vale l'altro, si riferisce un po' a quello che dicevo prima. Lui poi nella presentazione ha un po' dettagliato questa cosa, lui, in realtà l'ho dettagliata Sabatini, ha dettagliato questa cosa facendo riferimento appunto al curriculum del candidato perfetto, no? Quindi che deve avere delle competenze, che deve avere possibilmente una storia di attivismo nel movimento che lui non ha definito Movimento 5 Stelle, non hanno definito Movimento 5 Stelle. Questo, ripeto, è molto interessante perché, secondo me, uno dei possibili outcome di questa situazione è che, come vi vado a ripetere, come vi vado a ripetendo da alcune settimane, è che lui si metta in proprio da questo punto di vista. L'altro sul rinnovamento, ma non lo so, non so se sia un messaggio a Di Maio, perché Di Maio rientra tra le persone che non sarebbero ricandidate. Il messaggio a Di Maio, secondo me, sta in un'altra cosa che è stata detta mercoledì, e cioè che è necessario trovare dei ruoli all'interno dell'oggetto di partecipazione, del movimento, della piattaforma, per quelli che ha esaurito il secondo mandato non sanno più cosa fare, sostanzialmente non si possono ricandidare, devono avere uno stipendio e così via. E quindi quello, secondo me, è un po' il messaggio a chi ha esaurito i due mandati. Perché? Perché nel caso si arrivi veramente a uno scontro frontale più ravvicinato di quello che è già in atto, perché lo scontro frontale è già in atto, Casaleggio si troverà nella necessità di dover convincere almeno una parte dei gruppi parlamentari a seguirlo possibilmente. Non necessariamente, però sarebbe carino averli in un paio di gruppi parlamentari che rispondono alla piattaforma. E quindi probabilmente mando un messaggio dicendo guardate che non ci siamo dimenticati di voi, sappiamo che avete la necessità di fare qualcosa dopo questa esperienza, un modo lo troviamo. Quindi sì, sicuramente ci sono, c'è un mix di messaggi, un po' i nuovi, un po' i vecchi, un po' chi deve arrivare, un po' chi è già andato via per magari poterlo recuperare come dibattista, con cui secondo me Casaleggio ha un accordo già fatto. E quindi insomma, è interessante quello che sta succedendo, perché non è neanche detto che sopravviva il marchio del Movimento 5 Stelle per come lo conosciamo oggi. Per cui il problema è che, come dicevo anche settimana scorsa, Casaleggio ha il know-how. Grillo ha buona parte di voti, ma non ha la struttura. E Casaleggio ha dalla sua tutta la parte di attivisti che stanno aspettando di potersi candidare. Certo. Nicola? Io vorrei aggiungere un'altra parte di questo spettro che Marco affrontava perfettamente. E cioè, allora, Marco diceva Casaleggio è il know-how, Grillo ha la visibilità e anche di nuovo molta presa sui gruppi parlamentari. che cosa sono i gruppi parlamentari? Che cosa è rimasto dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle? E non avendo più la macchina del consenso che è rimasta nelle mani sostanzialmente di Casaleggio, loro che cosa hanno fatto? L'accordata, diciamo, di Maio, che cosa ha fatto? Si è affidata a Conte, cioè a quel dispositivo di raccolta del consenso che è stato ampiamente oliato negli ultimi due anni e mezzo. Ora, questo ha una serie di conseguenze, per esempio. Una conseguenza è che tutto questo finirà in mano o dovrebbe finire in mano a questo dispositivo. Dispositivo che con Luigi Di Maio ha spesso e volentieri insomma incrociato le lame. Quindi il partito Conte Di Maio, vediamo. In questo momento che cosa ha il gruppo parlamentare? Praticamente nulla se non la gestione del potere. Perché ci sono ministri e ci sono sottosegretari. Sono sempre di meno rispetto al passato. e soprattutto non hanno più Conte Presidente del Consiglio, ma hanno un altro dispositivo questa è la mia personale interpretazione che si fa un baffo di quello che decide decidono i big del movimento. Cioè, sostanzialmente ci sono viceministri e sottosegretari che sono stati messi lì per riempire le caselle del Movimento 5 Stelle. Quindi la via è veramente molto stretta. E poi c'è un dato. È scoppiato in Germania, anticipato anche in Olanda, uno scandalo sulle forniture sanitarie. Fra poco scoppierà violentamente anche in Italia. Questo ha un riflesso, certo che ha un riflesso, perché si sta parlando di Arturi, cioè di uno dei gangli più delicati del dispositivo di potere con piano. A quel punto, se questi guai dovessero prendere forma, è evidente che si metterà in discussione, si indagherà e si apriranno finalmente i riflettori, si accenderanno i riflettori su come è stata gestita una parte della pandemia in Italia. Tu ti riferisci a quell'inchiesta che per ora ha sfiorato Arturi sull'acquisto delle mascherine o anche ad altre inchieste? A quella probabilmente ne arriveranno anche altre. Perché vedi, è facile, è profondamente pericoloso fare i titoloni di giornale su delle povere persone che sono morte dopo aver avuto inoculato il vaccino, no? Ma qui ci dobbiamo anche iniziare a ricordare che per mesi questo paese non aveva mascherine e che per mesi ci sono state vendute mascherine che non servivano a niente. Alcuna delle quali, per esempio, io per primo ho comprato. Sì, tra l'altro permettevi di aggiungere perché sulla questione delle mille variabili che... Prego, certo. Certo. No, volevo dirti una cosa perché sulla questione vaccini sono particolarmente arrabbiato da sempre perché da sempre cerco di combattere contro quelli che non necessariamente i Novax ma anche solo quelli che avanzano dei dubbi magari leggendo il bugiardino oppure leggendo l'articolo di giornale scandalistico. Allora, guardando i numeri anche nei due casi, tre casi che ci sono stati i numeri e i numeri non mentono mai ho fatto un post l'altro giorno su questo ci dicono che anche il vaccino AstraZeneca quello che è praticamente il più come dire sicuramente meno efficace secondo quello che dicono i trial guardando i numeri medici quel vaccino non è pericoloso non è più pericoloso di una normale aspirina mentre quando manca un dispositivo come le mascherine come tu giustamente stavi ricordando noi abbiamo passato un mese circa infatti noi lo denunciamo su questo canale perché cominciamo a dire che bisognava dotarsi di quel tipo di DPI a gennaio perché il virus sarebbe arrivato e noi io Michele facemmo diversi video in cui dicevamo ci dobbiamo preparare quello che possiamo fare ora è semplicemente proteggerci bisogna che il governo si muova subito con questi dispositivi di protezione e lì si è perso tempo allora una cosa è dire il vaccino causa delle reazioni avverse ma il vaccino c'è per fortuna un'altra cosa è trovarsi completamente sprovvisti di dispositivi che in quel momento più che mai erano necessari si sapeva che sarebbero stati necessari quindi la responsabilità di quel governo di quella fase di quel governo secondo me è gravissima posso dire una cosa anche io sui vaccini già che ci siamo veramente un inciso velocissimo uno il vaccino AstraZeneca è stato usato massicciamente qui in Regno Unito all'altro giorno erano state vaccinate con AstraZeneca 10 milioni di persone rotte e le reazioni avverse non sono state superiori anzi in alcuni casi inferiori al vaccino anti-influenzale annuale normalissimo essendo il vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 più efficace del vaccino anti-influenzale nonostante sia meno efficace dei vaccini Pfizer moderni eccetera perché è meno efficace perché in realtà non ci si aspettava un'efficacia così alta per gli altri vaccini il vaccino AstraZeneca è estremamente efficace contro la Covid-19 quindi l'altro inciso che volevo fare lo faccio anche se voglio dire a me la mia personale sensazione è che questa montatura e questa questa campagna contro il vaccino AstraZeneca in Europa sia in parte e spero non in buona parte ma in parte dovuto alle come dire all'onda lunga delle trattative sulla Brexit non vorrei che qualcuno avesse pensato a un certo punto di punire il Regno Unito per come si sono svolte le trattative pensando di limitare la loro capacità produttiva le loro esportazioni del vaccino per punirli economicamente tanto noi abbiamo quello Pfizer che viene prodotto in Germania però poi si è visto che non bastava neanche quello Pfizer quindi io ho un po' questa sensazione condivido condivido ce l'ho anch'io questa sensazione io penso io temo che questa sia in parte come sia andata la questione anche perché veramente ci sono dati incontrovertibili su quel prodotto no no avete fatto benissimo d'altronde voi di sicuro ne sapete più di me detto questo la cosa sulla quale bisogna interrogarsi è questa noi abbiamo una scissione evidentissima fra le forze parlamentari e gli eletti di queste forze parlamentari in Parlamento e un governo questa scissione è evidente ci deve far domandare se dopo il governo Draghi quello che abbiamo chiamato populismo cialtronismo utilizzate gli ismi che vi piacciono ritornerà a gestire a comandare in questo paese ecco perché per quanto io se Dio vuole io non sono credente ma questa volta va detto se Dio vuole io non ho mai votato per il PD in questo momento quello che sta succedendo dentro il PD riguarda tutti riguarda anche anche gli elettori di destra perché se questi signori si facessero un esame di coscienza capirebbero che il PD esiste per gestire potere non sanno neanche fare politica perché quando fanno politica fanno disastri perdono le elezioni e vanno al governo vincono le elezioni o pareggiano le elezioni e vanno al governo il punto è che per quanto quel partito sia assolutamente per me per me invotabile poi c'è un cavolo di problema che abbiamo una destra che oggettivamente in alcuni momenti fa paura fa paura non perché io abbia paura non perché sia come quei rincoglioniti che dicono che stiamo stiamo rischiando il regime no le vedove di conte ma perché oggettivamente sono forze che sono se possibile ancora più populiste del vecchio Movimento 5 Stelle con una maggiore cultura politica perché hanno studiato qualche libro di più e loro la politica la sanno fare e poi la sanno fare sono degli abili navigatori il punto di questo paese quindi è questo noi ci siamo affidati a Super Mario Draghi e al suo dispositivo di potere ma fa fa poco se poi alle prossime elezioni chiunque vincerà sarà un un accrocco di nuovo populista è fondamentalmente privo di solide basi democratiche questo è spaventoso ecco perché poi dovremmo un poco ritornare alla realtà dei fatti Marco ha fatto un tweet fulminante seguendo controvento e raccontava che Davide Casaleggio si è paragonato a Pericle ora io non riesco seppur sforzandomi molto a mettere insieme queste due figure mi pare che Pericle peraltro non aveva una società sua non aveva affari suoi insomma era un pensatore si direbbe oggi un libero pensatore o per essere insomma divertenti un fancazzista militante di cultura ecco mentre Davide non è nell'una nell'altra è un imprenditore per cui io ho sempre qualche timore che un imprenditore mi venga a dire che un paese o un partito si gestisce come un'azienda è profondamente folle e sbagliato per cui ragazzi siamo messi in questa situazione io vi ricordo sempre che Beppe Grillo che è un grandissimo figlio di Buona Donna nel senso che ha un fiuto politico clamoroso tanti anni fa Marco se lo ricorda bene disse il Movimento 5 Stelle è un virus ci scioglieremo quando gli altri faranno proprie le nostre battaglie le nostre parole d'ordine quando gli altri saranno infettati il PD è stato infettato sicuramente siamo al 50% della missione della missione virus come la raccontava Beppe Grillo certo capisci occhio che Grillo se c'è una cosa che non ha mai avuto sua è un'idea e quindi anche questa cosa era certo però a fiuto politico era sì sì quello sì era questa era una frase di Gianroberto ovviamente tutto era una frase di Gianroberto sì 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 certo mi devo correggerlo su una cosa che ho detto prima e cioè che Davide Casaleggio non ha pronunciato il nome del Movimento 5 Stelle mai durante la sua presentazione in realtà l'ha pronunciato una volta per dire che il Movimento è percepito come il partito degli incompetenti e questo dice molto eh e questo dice molto certo questo dice molto bravo allora noi io e Nicola abbiamo scritto c'è anche un punto nel manifesto che riguarda la competenza peraltro sì sì certo certo perché cosa è successo in questi anni noi io e Nicola abbiamo raccontato più volte però penso sia utile ricordarlo è successo che quando è mancato Gianroberto Casaleggio e è stata rivelata l'esistenza dell'associazione Rousseau per un certo periodo il marchio di Rousseau non si è neanche capito non soltanto non si è visto dopodiché quando Davide Casaleggio ha capito che gli stavano un po' scippando giocattolino da Roma ha cominciato a organizzare le manifestazioni per conto del Movimento 5 Stelle Italia 5 Stelle insomma tutte le iniziative anche fisiche che sono state organizzate esponendo in bella vista il marchio di Rousseau cosa significa questo? chiunque faccia o si interessi di business sa perfettamente che la stessa azienda che gestisce due marchi in competizione rischia grosso nel senso non è facile si può fare ma non è facile è successo questo in questi anni la stessa entità ha dovuto gestire due marchi in competizione perché sono in competizione? Perché Casaleggio ce li ha messi in competizione Casaleggio in questi anni ha cominciato a promuovere Rousseau come se fosse un partito nel partito e adesso sta diventando il suo partito e quindi cosa fa? cerca di minare la credibilità dell'altro marchio che non sente più suo e che non è più suo che non è mai stato in realtà suo perché è stato formalmente dell'associazione di Grillo poi è stato dato in uso è stato modificato però non è mai stato dell'associazione Rousseau e ci ha provato Davide Casaleggio a ottenere il marchio in uso esclusivo del Movimento 5 Stelle e non c'è riuscito e quando non c'è riuscito come dicevo ha cominciato a promuovere il proprio marchio Rousseau quindi io non escludo non lo so se succederà ma non escludo che nella testa di Casaleggio come piano B ci sia l'utilizzo di Rousseau come un possibile marchio per una lista alle prossime lezioni una cosa che dicevamo nel fuori onda prima che arrivassi tu dicevamo io Nicola di fatto la spaccatura c'è l'abbiamo raccontata la stiamo anche documentando attraverso l'interpretazione dei vari passaggi però manca l'ultimo miglio adesso si cercano di tenere insieme i cocci in qualche modo anche perché le lezioni non sono dietro l'angolo mancano due anni e così via c'è possibilità secondo voi che accada qualcosa che fa ricomporre questa spaccatura oppure i giochi sono fatti è solo una questione di tempo guarda io l'altro giorno parlavo con Nicola e gli dicevo secondo me al momento per come stanno le cose adesso se non ci sono se non c'è qualche evoluzione di qualche tipo che non riusciamo a intravedere possono trovare un accordo Casaleggio e Grillo ma sul fatto che nessuno dei due utilizzi il marchio come Movimento 5 Stelle dopodiché io vi ricordo che il primo politico nell'ottobre del 2019 a dire a manifestare il suo dubbio che nelle elezioni politiche del 2023 ci sarebbe stato ancora il simbolo del Movimento 5 Stelle fu Matteo Renzi un altro che di fiuto politico ne ha poi fa delle cose insomma criticabili oggettivamente o soggettivamente come tutti noi ma insomma non è questo il momento non è questa la sede lui lo disse e la cosa passò sotto silenzio sempre perché la maggior parte degli analisti di questo paese è affascendata a ricordare se letta se gioca al calcio balilla queste minchiate di colore qui ma quando lui lo disse io me lo ricordo perché stavo seguendo quel dibattito sulla rete mi colpì molto evidentemente aveva non soltanto fiuto ma anche qualche idea in testa e soprattutto aveva informazioni che noi poveri mortali non abbiamo e quello che dice Marco me l'ha fatto ricordare è proprio così ecco perché vi ricordo sempre la frase di Gianroberto detta da Beppe Grillo noi siamo un virus e questa cosa è profondamente vera guardate a come un partito come il PD è fondamentalmente ridotto ma è ridotto anche da prima che esistesse il PD nessuno ricorda che le riforme del lavoro una dietro l'altra sono state fatte da uomini afferenti a quella tradizione politica per esempio e adesso c'è qualcuno che dentro il PD parla di politiche neoliberiste ma ben detto signore se sono politiche neoliberiste io non lo so ma le ha fatte l'area politica e culturale di riferimento tua non mia certo certo capisci per cui ecco perché per esempio l'eredità di Zingaretti è il precipitato di 20 anni 25 anni in cui si fa confusione fra un partito di massa un partito popolare e un partito invece che si vende al miglior offerente pur di ritornare a occupare quella i posti di governo e di sottogoverno un esempio su tutti questi fanno confusione nel nel termine popolare per cui per loro essere popolari significa andare dall'adurso che non c'entra niente essere popolari andare dall'adurso tu sei popolare perché fai politiche popolari perché le tue politiche vengono dibattute e poi puoi andare dall'adurso ma puoi andare anche a casa di Trump e te la vai a giocare in un dibattito tv mentre questi non hanno idea di che cosa significa fare una politica e questo nasce da una mancanza di cultura di fondo per cui arriva il tema della democrazia diretta dell'uno vale uno delle masse che devono entrare nel parlamento e tu che fai prima dici ah no 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 perché hai paura che ti sostituiscano no dopodiché ti ci vendi e questa è la cosa incredibile e questo non essere popolare Matteo Salvini che è un altro che un fiuto ne ha per esempio sembra che lui ha il governo e non il PD perché perché non sono capaci perché non sono capaci i temi della destra sono patrimonio per me molti di questi temi sono disvalori più che essere patrimonio ma è la mia opinione quindi criticabile come tutte ma i temi della destra sono dibattuti magari anche volgarmente ma al bar quindi sono popolari se vogliamo tu perché ci siete voi voi me lo sapete dire quale tema del PD è popolare non ha temi il PD proprio non li ha proprio non li ha non è che non ha temi popolari non ha temi il PD non li ha capisci quando quando la gente gli vota contro perché gli vota contro perché vedono in questo accrocco di potere qualcosa che difende l'inesistente tipo la burocrazia questo cioè i famosi garantiti tanto per parlare in termini un po' più pratici ecco perché poi il successo del Movimento 5 Stelle perché perché una vagonata di persone che non è che non avevano ogni 27 del mese lo stipendio a torto a ragione per talenti o per mancanza di talenti hanno orecchiato quelle parole d'ordine hanno votato nel 2013 ormai sembra passato un secolo da quella parte capisci ti chiudo questa considerazione un po' pallosa e da maestrino con con una con una battuta ora il segretario per acclamazione eletta è di certo una persona di cultura io ho avuto modo quando lavoravo per il Movimento di conoscere alcuni suoi più stretti collaboratori persone degnissime che sanno come si sta a tavola ma il problema non è questo quando c'è un un inganno di fondo l'etta fa aprire è una bella uscita di comunicazione la sezione di testaccio che è una sezione storica della sinistra popolare romana ma già sezioni è un termine che non esiste non esiste più si chiamano circoli e oggi decine di giornali diciamo letta la fotografia di letta nella sezione capisci poi questi sono quelli che riaprono le sezioni che non si chiamano più sezioni ma fanno un segretario per acclamazione sono quelli che hanno votato per fare la democrazia diretta made in casaleggio cioè per farci votare da remoto che è una cosa che faranno durante l'assemblea di oggi peraltro sì ma quella però Marco tu me lo insegni che fai questo di mestiere quella platea però c'ha un nome e un cognome dice Marco Canistrari ha votato non ha votato da remoto ok clic la democrazia diretta perché quella è un'assemblea non è il popolo certo non è il popolo il PD è quello che si è inventato quella cazzata delle primarie che uno passava di strada gli dava due ore e votava ma quella è democrazia secondo voi capisci poi questi e chiudo sta pappardella oggi mi sento molto pericle molto più di Davide e Caleggio questi sono quelli che hanno barattato diritti fondamentali democratici per stare al governo col Movimento 5 Stelle vogliamo parlare di quali vogliamo parlare delle politiche sull'immigrazione vogliamo parlare del taglio dei parlamentari bravo bravissimo cioè Zingaretti e il suo gruppo dirigente è fuori da ogni idea di gogna ci mancherebbe ma questi hanno votato per il taglio dei parlamentari ma ce lo siamo dimenticati e poi il pericolo era Renzi che è populista ma non meno di altri quello che volete ma questo hanno votato il taglio dei parlamentari bastava questo per favore andate certo stavo riflettendo su quello che diceva Nicola ricordando la frase di Grillo e Casaleggio sul virus e aggiungevano appunto che il Movimento 5 Stelle sarebbe lo scopo del Movimento 5 Stelle è dissolversi non esistere più ora dal punto di vista della comunicazione e questa sarebbe la perfetta occasione per liberarsi del marchio Movimento 5 Stelle che sembra cominciare a creare più problemi di quanti non ne risolva mi chiedo vi chiedo perché ci stavo riflettendo ma non ho trovato una risposta secondo voi c'è una qualche corrente tra il Movimento 5 Stelle che fu Casaleggio Grillo Conte Di Maio che potrebbe trarre ancora qualche vantaggio e avrebbe la capacità di trarre ancora qualche vantaggio dal marchio Movimento 5 Stelle è domanda complicata allora ci provo io ci provo io vantaggio dal allora al momento ma mi sembra che l'unico che sia ancora ancorato al marchio all'idea all'icona Movimento 5 Stelle sia Alessandro Ribattista che comunque nelle sue uscite pubbliche ricorda sempre come il Movimento era altro che lui è ancora innamorato di quel Movimento di quei temi e di come quei temi venivano trattati dal Movimento 5 Stelle in quanto Movimento 5 Stelle mi sembra l'unico ancorato di un passato sembra che parliamo di 50 anni fa invece era soltanto due anni fa fondamentalmente altri che abbiano questo stesso romanticismo per quel passato francamente non ne vedo cioè anche quelli che lamentano il fatto che il Movimento si sia trasformato in qualche cosa di diverso rispetto a quanto era mi sembrano disponibili a cancellare quella roba lì o ad andarsene o se non ad andarsene penso alla Rezzi che non se ne va e rimane abbarbicata nonostante sia stata di fatto cacciata dica comunque dobbiamo fare altro cioè l'evoluzione prevista da Casaleggio è quella comunque che appunto si risolve e diventi qualcos'altro l'unico veramente non so se per ingenuità o se per genuino romanticismo o perché non ci ha capito ancora una mazza è Alessandro Di Battista secondo me che crede ancora nel marchio poi però prima di chiudere vi devo chiedere una cosa che riguarda il PD perché poi l'argomento del giorno è quello che ha toccato Nicola perché l'argomento anzi della settimana è appunto questo passaggio di consegne fra Zingaretti che aveva fatto tanto per la fusione e Letta che è vero che sappiamo poco di Letta di cosa di quello che vorrà fare Letta ma che è personaggio totalmente diverso come diceva giustamente Nicola a Letta va riconosciuto comunque uno standing che è enormemente più elevato ma enormemente più elevato di vera cultura Letta poi non condivido nulla di quello che dice e pensa però il riconoscimento di un livello culturale molto più importante più interessante e stimolante è quello faccio però chiariamo una cosa la domanda la domanda che è anche una perplessità di fondo di Marco è giustissima è davvero giusta qui però va chiarita una cosa che dovrebbe essere popolare e che è colpa di tutti noi che non la facciamo diventare popolare un po' perché facciamo altro nella vita è un po' perché insomma purtroppo siamo macchine in scadenza e ci sono un mucchio di cose belle da fare ma quando oggi a Omnibus sentivo la discussione a cui ho partecipato il campo largo da calenda a frato gli anni e roba del genere ecco questo è un modo incomprensibile di raccontare la politica dico io sarò distratto però io solitamente leggo 3-4 giornali da quando avevo 17 anni per cui a parte la memoria che se ne va ma voi mi sapete dire chi cazzo è frato gli anni e che cosa gli gira per la testa io ho un mio personalissimo metodo di vedere come si muovono le persone non giudicarle ma di dire Costantino ha fatto questo Marco ha fatto quell'altro Marco ha obiettato Costantino dico quando parlano di sinistra diciamo legata alle tradizioni questi ragazzi hanno la sinistra legata alle tradizioni è la sinistra che ha fatto lobbying per Philip Morris è la sinistra che ha votato queste cose è la sinistra che ha fatto il cashback di Stato la lotteria di Stato è la sinistra fighetta che invece di pagarci l'analista perché tutti quanti stiamo impazzendo ci ha fatto comprare ci ha detto compratevi il monopattino il monopattino poi certo che questi non sono popolari prova ad andare a Ballarò a Palermo o a Quartogiaro a Milano a dirgli senti carino vai invece di utilizzare la macchina facciamo qualcosa per il pianeta comprati il monopattino ma certo che quello vota Salvini perché perché Salvini va su Twitter e dice ma vaffanculo il monopattino è che purtroppo Salvini è Salvini ma io sono pronto prima di morire di rivotare un'altra volta qualcuno che dica mandate a fare in culo voi e i vostri monopattini voi e il vostro cashback cioè poi intendiamoci il cashback è una cosa per benestanti come il il monopattino è una roba per benestanti devi avere la carta di credito devi fare un sacco di acquisti cioè questi mi vengono a dire no perché il riformismo Zingaretti è un socialdemocratico ma che cazzo dite cioè ma ma neanche Longo l'ex segretario del partito socialista democratico italiano mi pare iscritto alla P2 nonché arrestato credo almeno un paio di volte per tangenti rimarrebbe cioè si offenderebbe dice questo è socialdemocratico capite bene che c'è è una follia è una follia quindi io sono io non sono né felice né 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 scontento né niente semplicemente non è il mio campo però io da questi signori vorrei una risposta concreta su questo volete il monopattino perché se volete il monopattino va benissimo o volete fare politica poi è tutto qui scusate ma io queste cose mi accaloro mi accaloro veramente è interessante mi viene in mente che forse con qualche con qualche diciamo personaggio abbastanza in vista del PD potremmo anche provare a fare una chiacchierata ponendo esattamente queste domande cioè la socialdemocrazia comunque il partito di sinistra sinistra o sinistra autentica che vi è stato proposto fino adesso vi ha soddisfatto esatto sulle misure concrete prese quelle poche misure concrete prese Costantino tu diciamo che di economia te ne intendi non sei proprio a digiuno io ho fatto due esami di economia all'università è uno di statistica ma non c'era bisogno di farli per capire poi una cosa in Italia per godere del bonus edilizio fatto dal governo Conte che può essere criticabile non criticabile ha un senso ok un privato cittadino deve presentare il privato cittadino in questo caso ce l'hai davanti deve presentare 44 documenti dicasi 44 tu sai quanto costa presentare 44 documenti quanto costa proprio economicamente in tempo che è la valuta più preziosa e meravigliosa che abbiamo e quindi non va sprecata e in soldi ok tu sai che quando il governo Conte diede a fondo perduto o quasi trans finanziamenti da 50 da 25 mila o da 100 mila euro ad aziende private sottolineo private l'azienda doveva presentare meno documenti e la direzione nazionale antimafia che non sono proprio dei pirla andarono in parlamento a dire al governo ragazzi dovete metterci nelle condizioni di controllare le aziende che chiedono questi soldi gli entrò da un'orecchia e gli uscì dall'altro adesso ci sono decine di inchieste in Italia su aziende poco pulite che hanno preso quei soldi chi aveva ragione? avevano ragione quelli che glielo chiedevano certo capisci? e chiudo sempre perché sia tu che Marco di economia qualcosa ne sapete sicuramente più di me per il cashback per la lotteria di stato per gli ambienti si diceva un tempo per gli ambienti è stato previsto una spesa dal governo Conte di 5 miliardi se voi andate su un sito fatto bene di qualsiasi organizzazione seria ambientalista vi dirà che con questa somma si mette a posto mezza Italia nelle mille emergenze dell'erosione delle coste te lo dico subito te lo dico subito perché del tema mi sono occupato allora mediamente il disastro idrogeologico o comunque naturale che sia da terremoto che sia da frane che sia da quel che l'è costa l'Italia 6,7 miliardi l'anno oh vedi capisci che cosa il cashback cioè noi stiamo dando soldi a chi a chi non ne ha bisogno certo esatto ce ne hanno i soldi capisci a parte la cosa diseducativa della lotteria di stato ma allora a questo punto privatizziamo anche la snaia andiamo a giocare ai cavalli alle partite e lo facciamo con un'azienda di stato cioè capisci che questa è una follia ecco perché incazzo condivido totalmente pur non essendo di sinistra guarda sul bonus sul super bonus visto che mentre ne stavamo parlando mi è arrivata una una segnalazione eh ministero della programmazione economica è stato pubblicato uno studio eh fatto da Open Economics e Lewis Business School eh che dice che il super bonus il 110% produce valore aggiunto io non andrò a vedere lo studio naturalmente vediamo se effettivamente produce eh valore aggiunto il che non mi meraviglierebbe troppo comunque c'è un fatto di circolazione della moneta però però mi chiede questa persona che me l'ha mandata ma se funziona così bene perché non lo fanno in tutto il mondo e io ho risposto mentre parlavamo eh per due motivi il primo motivo è che è un problema di cassa perché ti devi indebitare per fare il 110% di bonus il secondo è perché crea delle distorsioni nel settore eh poi magari produce anche valore aggiunto negli anni produce anche valore aggiunto quello che ottieni sempre quando fai misure di questo tipo e in Italia di misure di questo tipo se ne fanno tutti gli anni intendo bonus super bonus eh bonus finestre bonus giardini abbiamo una fantasia nel nel il governo i governi italiani hanno una fantasia del generale bonus continui che è spaventosa è degno di di un libro fantasy secondo me il problema è che queste misure nel breve periodo fondamentalmente arricchiscono l'intermediario il consulente fanno la fortuna del consulente che raccoglie i 47 documenti che dicevi tu si fa pagare con moneta sonante per aver raccolto e valutato quei documenti e poi presenta la domanda questo è il meccanismo che non funziona oltre al fatto che molte misure come i monopatri sono una stronzata proprio una stronzata o il cashback è una stronzata clamorosa per i motivi che dicevi esattamente capisci che però qui si ritorna a bomba sul tipo di comunicazione e su che cosa significa essere veramente popolari certo perché insomma ognuno di noi con l'età cambia ma vedi io ho molto rispetto di chi per esempio nel 2021 con coraggio si dice comunista perché almeno qualche libro l'ha letto non so se mi spiego però davanti a delle prove eccezionali servono degli impegni eccezionali tu non ti non puoi pensare di fare il fighetto di ultrasinistra e poi il parlamento votare per uno sgravio fiscale di centinaia di milioni a una multinazionale cioè ma ci divento io il comunista allora è una follia questa quella sì che è una distorsione del mercato ed è una distorsione del mercato spaventosa non per niente i concorrenti di Philip Morris in Italia hanno parlato di concorrenza sleale di Stato e hanno ragione poi vada bene stanno stanno facendo vendono un prodotto che per quanto io sia tabaggista e mi piaccia fumare sempre meno mi piace fumare ma è un prodotto allora con questo criterio smettiamo di bere vino o di mangiare delle cose ovviamente è una follia capisci però è questo il punto cioè beati i tempi in cui gli avversari si combattevano e si rispettavano anche nelle loro cose che più ci ripugnavano capisci ma quando questo falso fighettume questo falso perbenismo ha questo si è diventato un virus in questo paese per cui non si possono dire le cose perché se no diventi divisivo ma certo diventi divisivo che peraltro questo e Marco te lo potrà dire bene bene il successo del Movimento 5 Stelle è stato proprio essere divisivi e avevano ragione a farlo avevano ragione politicamente che poi l'hanno declinato a cazzo ma avevano ragione a farlo ecco perché io non temo un partito divisivo io temo un partito che della divisione fa il suo marketing senza avere idee che poi era quello che ha messo in piedi Gianroberto scusate sono andato lascio terminare Marco prima termino con una slogan che mi ha tirato fuori dal cuore Nicola resteremo noi grillini ma su questo non c'è assolutamente su questo non c'è alcun dubbio certo guarda io ero grillino negli anni 90 quando ero un giovane iscritto all'allora PDS e Zingarecchi era già vecchio da ex capo della FIGC era proprio vecchio ministeriale si dice a Palermo un pruvolazzato cioè pieno di polvere era già così questi nascono vecchi certo basta scusate mi taccio vai Marco io vorrei fare una riflessione su quello che sta come dicevi la domanda iniziale di questa ultima parte di quello che sta succedendo nel Partito Democratico allora che senso ha la scelta di Letta la scelta di Letta deriva dal fatto che Letta ha secondo me Letta ha un'esperienza da Presidente del Consiglio perché il Partito Democratico non si può permettere di non avere al suo vertice una personalità all'altezza del del vertice del Movimento 5 Stelle o di quello che sarà il Movimento 5 Stelle governativo che è Conte ovviamente i due personaggi sono imparagonabili dal punto di vista del curriculum e dalle capacità intellettuali e dello standing intellettuale però Conte ha fatto il Presidente del Consiglio per due anni e mezzo e quindi Letta e quindi il Partito Democratico non si potrebbe permettere di avere qualcuno senza quell'esperienza perdonami scusa mi interrompo sempre ma mi stimolate troppo allora ricordiamo che Letta ha fatto il Presidente del Consiglio come Presidente di Garanzia di un governo del Presidente laddove il Parlamento non riusciva a esprimere una maggioranza cosa significa se vogliamo fare un parallelo magari un po' forzato ma il parallelo ci sta tutto era il Mario Draghi del momento certo cioè era una persona politico non tecnico ma comunque una persona politica con uno standing diciamo così di politologia e di conoscenza delle cose abbastanza elevato che venne chiamato laddove Bersani fallì con il PD lui era lettera vice segretario del PD però con diciamo la parte accademica del PD quindi era esatto voglio utilizzare proprio questo termine era una sorta di Draghi di quel momento poi vabbè sappiamo come è andato a finire perché Renzi eccetera eccetera corretto corretto esattamente così e questo mi porta a fare questa riflessione ma per quale motivo uno dovrebbe votare il partito democratico un partito democratico che continua a rincorrere il Movimento 5 Stelle anche dopo esserne stato distrutto perché attenzione noi stiamo stiamo uscendo auspicabilmente in alcune parti del mondo più velocemente che in altre da questo bienio drammatico che ha accelerato di dieci anni tutti i processi tutto quello che andava bene è andato meglio di dieci anni tutto quello che andava male è andato peggio di dieci anni in questi due anni questo non lo dico io e anche quello che sto per dire non è una mia riflessione è una mia elaborazione di quello che alcuni economisti stanno cominciando a dire e su cui stanno cominciando a ragionare ne cido uno che si chiama Scott Galloway che ha scritto una serie di libri uno si chiama Post Corona l'ultimo lo consiglio a tutti e attenzione stiamo stiamo entrando in una nuova fase epocale dopo la globalizzazione e dopo la digitalizzazione di massa dei processi entrambi quei processi l'Italia ha sostanzialmente mancati perché ha mancato la globalizzazione non riuscendo ad agganciarsi a quel processo ha mancato la digitalizzazione e ancora arranca e il prossimo grosso processo è la grande dispersione lui fa l'esempio della dispersione degli headquarters delle aziende si calcola che un terzo circa il 30% dell'economia legata agli uffici fisici verrà trasferita agli edifici privati perché molte delle persone che hanno cominciato a lavorare da casa continueranno a lavorare da casa almeno in parte le aziende cominceranno ad avere programmi per cui dove è possibile ovviamente incentiveranno i propri dipendenti a stare a casa e un altro fenomeno è la dispersione delle strutture alberghiere Airbnb è l'esempio più lampante però ci sarà grandissima dispersione di valore dai soggetti classici gli hotel i bar eccetera a realtà più disperse come appunto Airbnb la dispersione della creatività la settimana scorsa ha fatto si è quotata negli Stati Uniti Roblox che è una azienda che è una piattaforma che permette ai creator di costruire dei videogiochi ed è utilizzata da oltre il 50% degli americani sotto i 16 anni quindi è il prossimo la prossima azienda più influente del mondo probabilmente ma la dispersione della creatività la sperimentiamo noi stessi con questo canale insomma c'è in atto questo processo che determinerà nuovi scossoni soprattutto alle fasce di popolazione che meno sono preparate ad affrontarlo non voglio fare il processo delle intenzioni ma chi se ne occupa il PD ha qualche idea in merito il movimento ha qualche idea in merito perché rischiamo di perdere la terza rivoluzione quasi industriale nel giro di 40 anni verissimo è vero verissimo verissimo davvero verissimo ok ragazzi penso che possiamo terminare qui per oggi ne abbiamo dette di cose anche oggi penso che sia molto gradito questa rubrica sta andando benissimo c'è chi l'aspetta con ansia c'è chi scrive nei commenti ogni volta che vi ascolto sono sempre più terrorizzato però non posso fare a meno di ascoltarmi mi pare che non è non è voluto il terrore non siamo un film horror però raccontiamo delle cose che sono spesso volentieri inquietanti anche con con la passione che prima ha messo Nicola nella sua filippica va bene ragazzi vi ringrazio vi auguro buona domenica grazie a tutti ciao forza ciao